Serafino. Serafino Squillage è stata una figura importante nella mia vita perché in pratica lavorava molto. Ma lui praticamente era un elicotterista praticamente quando c'era Settimio elicotterava mio padre perché non glielo faceva toccare l'elicottero. Praticamente Serafino invece era un elicotterista proprio ufficiale della squadra e facevamo il getto, facevamo tutto il pavimento. Lui elicotterava solamente e il resto lo facevamo io, Luigi e Giuseppe. Giuseppe era il figlio. Praticamente era una persona che è venuta e doveva andare a scuola. Siccome voleva aiutare il padre poi è venuta in cantiere con noi. Abbiamo lavorato un paio d'anni tutti i giorni. Ci facevamo tutta la strada di Cosenza. Praticamente Serafino scendeva con la macchina Coraggio e noi arriviamo con la macchina là e poi lo prendevamo noi. Abbiamo fatto diversi lavori. Praticamente è una persona che per il primo lavoro mi pare l'abbiamo fatta a Gian Moro. A Baccio del Mela. Praticamente era l'ultima azienda praticamente accanto all'Icon. L'ultima quella in fondo alla strada. E niente c'è... praticamente siccome poi niente mi sono stancato io perché in pratica me ne sono andato che abbiamo fatto... poi abbiamo con... poi praticamente lui è stato ad invitare delle persone moldave. Praticamente siccome aveva invitato questi cosiddetti russi che venivano dalla Moldavia, delle persone più forti, perché dice che secondo lui poteva andare meglio, era più buono. Non so come mai. Cioè il pavimento lo facevamo lo stesso. Si volevano un pochettino allargare e avevano parlato con Olegri Bnit. Praticamente è il fratello di altri due che si chiamano Anatole Bnit e Igor Bnit. e lui lavorava sulla strada per... per Vena di Maida, dalla... praticamente dalla... passando dalla tangenziale di sotto dopo... dopo Marcellinara. Più avanti c'era un bar dove faceva... dove lavorava al ristorante. Mi pare che era un tabacchino, un bar... eh... un tabacchino. E l'abbiamo trovato là di sera, ma... mi ricordo... era... tutto buio. Praticamente la Calabria è desolata, non c'era nessuno, neanche un animo. C'ero solo. Ero uscito da una storia a Cosenza con l'università che non potevo dare esami perché non avevo i soldi. e me ne sono andato con lui, con mio padre. Poi niente, praticamente dopo... dopo che abbiamo lavorato da Auritano, che praticamente c'aveva lo scasso dopo Viale Crotone, girando, che si va per... per... per Santa Maria... ehm... praticamente c'ha... eh... era un lavoro che praticamente avevano costruito un capannone, l'abbiamo fatto noi, però era... con... con i muri in cemento armato. E passavano cinquanta centimetri di cemento. e poi niente... praticamente c'era... l'ingegnere Bianco, che faceva il direttore del lavoro... e... c'era Nino Lauritano, eccetera... c'era il padre, c'era il fratello, c'erano loro... e poi me ne sono andato... e... niente... ho fatto un corso e poi abbiamo fatto un lavoro, però... praticamente lui ha detto che io non ce lo facevo più... e... mi ha fatto restare a casa... e poi mi hanno trovato un geometro... mio padre, Vincenzo Cardamona... e... avevo la X, la X, la Citroen X grigia metallizzata... targata Catanzaro 45 18 72... e praticamente avevo i soldi alla posta... avevo fatto le giornate... e mi sono pagato il gasolio... l'assicurazione e quelle cose che si devono pagare... praticamente avevo cambiato il motore tre volte... avevo cambiato la guarnizione tre volte della testata... perché... il proprietario era di Catanzaro Lido... ed era andato in Spagna... e... siccome se l'era girata tutta... poi si è bruciata... e... poi niente... poi ho fatto... sei esami a... 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 a Ingegneria Informatica e Biomedica... e poi me ne sono venuto di nuovo... a... a... come si dice... a casa... e mi sono... e mi sono stato là... però... siccome stavano costruendo una casa... avevo saputo praticamente che avevo comprato un terreno... a Fiasco Baldare... ci siamo trasferiti... grazie...